Musica Musica un compagno non ti deixava in questa maniera che non è stata necessitata e che non appogli che mi sento se mi costruivo cada vita o no, non ti compendi 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 ma l'chanio ma l'chanio ioго l'chanio con quello i 감을 in ma ai e noi e i c'è nà la ci Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.